SIIIIIIIIIIIIIIIII Ce l'abbiamo fatta! Siamo tra i migliori otto d'Europa! Mamma mia! Che sofferenza! Che sofferenza! L'asino Conte a casa! L'asino Conte a casa! 0 a 0! Sono volati i calendari! Dalle smadonne che ho tirato! Sono volati i calendari ma ce l'abbiamo fatta! Tottenham a casa Risultato nel complessivo bugiardo Perché per colpa anche nostra Poteva essere 5 a 0 Nel totale 5 a 0 All'andata CDK E ciao si mangiano due gol Uno ciascuno Qui quanti cazzo ce ne siamo mangiati Leao Tonali Messias Orichi che becca il palo Io non ho parole Non ho parole Mega sfogo in questo momento per l'attacco Non ho parole che vi mangiate tutti sti gol Se uscivamo Non potete capire che cazzo combinavo Per colpa di sti errori Ora abbassiamo i toni Perché non è sfogo Anche se non possiamo fare ste cose In Champions League soprattutto Difesa perfetta Difesa perfetta L'atteggiamento era quello giusto La concentrazione La grinta La voglia di non far passare neanche un pallone Nel primo tempo Abbiamo fatto una dimostrazione di forza incredibile Incredibile Poi ovviamente il Tottenham è uscito Nel secondo tempo ha giocato tantissimo il Tottenham Ma noi in ripartenza facevamo male Ma non eravamo cinici Ci siamo mangiati dei gol cramorosi tonali Che gliela tira addosso sulla caviglia davanti alla porta Brahim davanti a due uomini Non tira di prima Inizia a turnicare Che si gira attorno E non va alla conclusione Ragazzi Io Io credevo a un certo punto Deve essere scherzi a parte Perché non è possibile Non era calcio Era Tiro al bersaglio Il Milan tirava su tutti gli uomini con la maglia bianca Vogliamo parlare Dello schema Su punizione nel primo tempo Messias davanti al portiere La spara a lato Di destro Perché cazzo Perché La sofferenza enorme Kane ha quasi A tempo scaduto di testa Su punizione Quasi la mette dentro Anche se non era angolata Ha fatto una parata clamorosa Mignon Si vede che c'era Mignon Perché i nostri giocatori Riuscivano Anche A Avere la sicurezza Di passarla all'indietro Se serviva ora Abbasso i toni Scusate che sono Euforico Il Milan Non Andava Ai quarti di Champions Da undici anni Io avevo quindici anni Io avevo quindici anni E Non facevano neanche ancora video su Youtube Probabilmente Più o meno Io ho aperto il canale Nel 2012 Ma Il Milan Era già uscito ovviamente Perché era giugno Quindi si Quindi io È la prima volta Che posso commentare Un Milan Quarti di finale Un Milan Ho sofferto tantissimo Ragazzi io ve lo dico 5 a 0 Poteva finire Tra andata e ritorno Questa partita 5 a 0 Forse un gol Non lo poteva fare Il Tottenham Perché Ha avuto qualche occasione Ma non le abbiamo concessi tante Noi anzi Ne abbiamo avute tante Le abbiamo tutte sbagliate Ora L'obiettivo È quello Arrivare ai quarti Ci siamo arrivati Perché Non Provare A sperare Di poter andare In semifinale Perché Non provarci Perché Perché Siamo tra le migliori 8 Proviamoci La difesa va bene Ma non possiamo fare Sti errori Ogni occasione Che hai Devi sfruttarla E buttarla dentro In Champions League Ora Testa al campionato Io voglio Questo Milan Perché io L'anno prossimo In Champions Voglio tornare A giocarla Voglio tornare A giocarla Non voglio pensare A un Milan Fuori dalla Champions League Ragazzi Ci sono ancora 13 partite Dobbiamo A tutti i costi Prendere un posto Per la Champions League E poi vedere Dove arriveremo In Champions League Se ci faremo I quarti O se riusciamo Addirittura Utopia Ad andare oltre Ad andare oltre Ragazzi In semifinale Non ci andiamo Dal 2007 L'ultima volta Che abbiamo vinto La Champions League Utopia Pensare di andarci Però Perché non provarci Ragazzi Perché non provarci Ragazzi Sono distrutto Contento Distrutto Però Continuiamo Così Dobbiamo migliorare Ancora tanto Ma intanto Siamo tra le migliori Otto In Europa Dai ragazzi Sono veramente Contento Contento Orgoglioso Orgoglioso Di questa squadra Mettete mi piace Mi si sta Andando completamente Via la voce Iscrivetevi al canale Seguitemi Su tutti i social Che adesso Faccio Storie anche Su Instagram Nick Cagnino 96 Su Instagram E niente Ad un prossimo video Buonanotte a tutti Ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti